James Joyce ha detto, la vita è come un eco, se non ti piace quello che ti rimanda, devi cambiare il messaggio che invii. Che cosa vuole dire? Che ognuno scrive la sua vita con la penna della sua evoluzione. Che ognuno scrive la sua evoluzione. Che ognuno scrive la sua evoluzione. Che ognuno scrive la sua evoluzione.